A Coverciano ultimo allenamento molto leggero per l'Italia di Cesare Prandelli alla vigilia dell'amichevole di San Siro con la Germania. Il CT dovrà rinunciare a Giuseppe Rossi tornato però finalmente ad allenarsi sul campo. Per l'attaccante della Fiorentina febbre e tonsillite sono alle spalle e il suo recupero per Londra nella seconda amichevole in programma con la Nigeria è praticamente certo. Stesso discorso in pratica per De Rossi alle prese con il problema l'aluce destro rimediato in campionato. Il centrocampista della Roma ha svolto lavoro differenziato senza prendere parte alla sintesi tattica di Prandelli. Forse in panchina con i tedeschi De Rossi ci sarà sicuramente lunedì sera al Craven Cottage. Almeazza dunque nel centrocampo a quattro schierato a rombo Prandelli punterà quasi certamente su Pirlo, Marchisio, Tiago Motta e Montolivo. Dietro con Buffon quartetto difensivo Abate, Bonucci, Barzagli e Criscito mentre in attacco la coppia sarà formata da Osvaldo e Balotelli. Quest'ultima ha smaltito tutti gli acciacchi. Recuperato al 100% anche Ogbonna. Subito dopo pranzo valigie e borsoni pieni e gruppo azzurro Pepito compreso al completo sul pullman per il trasferimento alla stazione Santa Maria Novella di Firenze per prendere il treno direzione Milano. E almeazza come da programma nel tardo pomeriggio la conferenza stampa pre partita di Prandelli insieme a un giocatore. Infine la consueta rifinitura. Venerdì sera Lucia San Siro sarà ancora una volta Italia-Germania seppur amichevole mai una sfida come le altre.